Tariffe ridimensionate, soprattutto per quanto concerne le società sportive e dilettantistiche. L'amministrazione comunale ha approvato il nuovo tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi. Soddisfatto il sindaco Roberto Materia, che con l'ausilio dell'assessore a ramo, Angelo Coppolino, è riuscito a portare a compimento uno dei punti del suo programma elettorale. Nelle intenzioni dell'esecutivo di Palazzo Longano c'è la volontà di favorire il movimento sportivo come importante punto fermo sul piano sociale. Per i singoli utenti under 18 o over 50 il costo degli allenamenti sarà di 1 euro al mese con possibilità di un abbonamento annuale da 10 euro, 2 euro per le gare o le manifestazioni sportive. Per tutti gli altri utenti singoli il costo previsto è di 2 euro al mese per gli allenamenti, 20 euro per l'abbonamento annuale e 5 euro per singole gare. Per quanto riguarda invece le società sportive è stata fatta una doverosa distinzione tra società a fine di lucro e società senza scopo di lucro. I settori giovanili delle società non aventi fini di lucro potranno usufruire dell'abbonamento mensile di 1 euro annuale di 10 euro comprese le gare federali. La singola gara avrà costo di 2 euro. Per quanto riguarda le società senza scopo di lucro nella categoria assoluti, abbonamenti mensili a 2 euro annuali a 20 euro incluse le gare federali. Singola gara a 5 euro. Per quanto riguarda i settori giovanili delle squadre a fine di lucro, gli allenamenti sono fissati al costo di 5 euro l'ora, singola gara 25 euro. Per gli assoluti invece 10 euro all'ora per gli allenamenti e 50 euro singola gara. Sono previste riduzioni per categorie particolari come arbitri, forze dell'ordine e atleti di valore nazionale, nonché per i campionati studenteschi. L'attivazione degli impianti di illuminazione comporta un aumento delle tariffe del 20%, per i riscaldamenti del 50%. Per i riscaldamenti del 50%